Io sono Podesta Graziano, gestisco l'azienda di mia sorella in quanto lei per problemi non può e mi occupo di tutto in poche parole, più o meno di tutto, dalla mongitura alla produzione del formaggio a tutte le altre cose. Come ben vedete qui sono territori più o meno abbandonati, probabilmente se non ci fossimo noi sarebbero ancora più abbandonati, quindi cerchiamo di resistere in una situazione secondo me non favorevole, perché io per eliminare ho quasi le predazioni, ho dovuto, come vedete ci sono 11-12 cani, nell'ultimo anno non ho avuto nessuna predazione, però questi cani qua a me costano 3.500 euro l'anno escluso i veterinari, quindi come potete ben capire in una piccola azienda che produce, poi oltretutto con gli animali, con gli animali diciamo al pascolo, brado, la produzione di latte è il 60-70% in meno di quello che potrebbe essere un intensivo e quando va a vendere formaggio è normale che chi produce in una maniera può vendere a un prezzo diverso e quindi è difficoltoso anche vendere i formaggi.